Siamo davanti al palazzetto comunale di Lucera, una struttura pubblica emblematica di quelle che sono le dinamiche di questa amministrazione e di passate amministrazioni che si sono susseguita al comune di Lucera, emblematica perché? Perché sono da sempre e quando dico da sempre quindi non è soltanto una questione di questa amministrazione ma di anche tutte quelle che hanno preceduto questa, da sempre le strutture sportive sono state affidate in maniera assolutamente illegittima, quello che prevede la legge è fare dei bandi pubblici per dare la possibilità a chiunque volesse avere l'opportunità o la possibilità di vedersela assegnata per poterla gestire, di partecipare a un bando, di fare la sua offerta che può essere anche più conveniente magari per la cittadinanza e quindi vedersi assegnata o vedersi non assegnata perché magari c'è stato un altro che ha fatto una proposta migliore. Non esiste nulla di tutto questo da sempre in questa città, viene affidata ad amici, a conoscenti con una semplice delibera di giunta, come se fosse proprietà loro, da sempre queste strutture vengono considerate proprietà privata e quindi vengono affidate agli amici, agli amici degli amici e quant'altro e non basta questo perché quello che poi bisogna sapere è che ad esempio su questo palazzetto dello sport ci sono e non rinvenienti naturalmente soltanto da questa amministrazione ma anche da quelle precedenti, anzi direi soprattutto da quelle precedenti, anche debiti fuori bilancio che arriveranno e sbarcheranno prima o poi in Consiglio Comunale per più di qualche centinaio di migliaia di euro per utenze e bollette mai pagate. Quindi ci sono bollette intestate al Comune di Lucera? Assolutamente sì perché le utenze sono comunque sempre intestate al Comune di Lucera e bollette che non sono state pagate, che non sono pagate da sempre e che comunque continuano a andare avanti, contiamo ad andare avanti su questa strada al campo sportivo per dirne un'altra, è la stessa identica cosa, cioè ci sono tutte le bollette dell'anno scorso della passata stagione per un porto di circa 14 mila euro che non sono state pagate, assolutamente non sono state pagate e ancora oggi in quella struttura succede la stessa cosa. Quindi quello che non si riesce a stabilire come principio in questa città è che le strutture pubbliche non servono a chi fa politica per accontentare un proprio cliente, per farsi la clientela, servono per dare le opportunità ai giovani, ai ragazzi di avvicinarsi allo sport e anche a chi ha voglia di gestirle, di avere una opportunità. L'opportunità che sembra essere stata tratta finora solo, oltre che alle associazioni amiche, ai gruppi amici, a persone amiche, anche ad assessori e consiglieri amici, cioè se la notizia che è stata pubblicata da una testata giornalistica lucerina fosse confermata ci sarebbe davvero da preoccuparsi perché diciamo che il silenzio dell'amministrazione ha delle interrogazioni precise e eloquente. Assolutamente, poi sarebbe da preoccuparsi, mi sembra onestamente che è quasi normale in questa città, in questa città tutto sta diventando normale, specie in questa amministrazione, questa amministrazione sta facendo veramente diventare le cose più assurde, le cose più pazzesche che stanno diventando normale, stanno rientrando anche nella mentalità della gente come normalità. È scandaloso quello che avviene in questa città per tutto, per quelle per le strutture sportive è ancora più evidente, però c'è disinteresse un po' da parte di tutti. San Pio X, un'altra perla di struttura pubblica che non si capisce per quale motivo non si riesce a fare un bando da mi sa 25 anni, una roba del genere. Io mi chiedo, la legge a Lucera esiste? Siamo una Repubblica a parte? Siamo una Repubblica dove io semplicemente perché sono l'assessore o semplicemente perché sono il sindaco affido con una semplice delibera di giunta una struttura comunale che appartiene a tutti, a qualche mio amico o a chi mi fa piacere anche se non è amico? Io con quale diritto decido chi deve gestire la struttura pubblica tra lui, lui, lui e lui? Sono degli interrogativi che forse resteranno tali finché qualcuno non si deciderà a dare delle risposte. Penso che per ora è tutto, alla fine di un enesimo evento qui al Palazzetto dello Sport ci risentiamo. Grazie per la visione!